ma 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 io so soltanto che se ne parla sul Corriere della Sera quindi deve essere un mago importante il mago terma qua lo chiamano il divino terma vedete cari amici miei io non dico menzogne cari io non dico menzogne vedete qua leggiamo insieme il divino terma per esempio che ha anticipato che Maria Elena Boschi avrebbe avuto un figlio probabilmente maschio probabilmente maschio tra l'autunno del 2015 e la primavera del 2016 non solo ha sbagliato ma ha pure perseverato nell'errore dato che di quel figlio non c'è traccia ancora oggi hai capito? ecco l'articolo è di Giusy Fallano questo è il divino terma il divino caro terma io non lo so se tu quando hai previsto che la bella Maria Elena Boschi vedete che sta qua Maria Elena Boschi lo sapete che a me piace tanto Maria Elena Boschi io ho dedicato dei figlio a Maria Elena Boschi perché io lo so lo so che tempio fa Maria Elena Boschi un anno due anni fa io ho dedicato un figlio cercatelo cercatelo il proverbio dice che chi cerca trova cercatelo su io ho youtube Serafino Massoni e Maria Elena Boschi perché su questa mia web tv ci sono circa 10.000 video cercate 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 chi cerca trova e Maria Elena Boschi era un po' un videosetta della sua collega Mariana Maria perché Mariana Maria era è già sposata mi pare che ha due bambini e invece Maria Elena Boschi ancora i bambini non ce l'aveva per cui il mago il divino mago Terma aveva detto che ci avrebbe avuto un pupo ci avrebbe avuto un pupo e vabbè mago Terma ma per fare un pupo Maria Elena Boschi ha bisogno dello sperma non è che Maria Elena Boschi il pupo se lo può fare da sé io non lo so divino Terma io non lo so divino Terma se tu lo sai che per fare i bambini ci vuole lo sperma io non lo so ma te lo spiego io qua è scritto tutto per filo e per segno capito e il divino Terma è scritto qua Maria Elena Boschi avrebbe avuto un figlio probabilmente maschio tra l'autunno probabilmente maschio invece invece la 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 deputata della Carvalese a Giorgia Meloni il figlio ce l'ha avuto femmina a a a a a Giorgia Meloni ce l'hai avuta femmina ce l'hai avuto il figlio il compagno tuo non ce l'ha avuto lo sperma giusto per fatti fare un maschio un maschio un vero un vero come si diceva in antica Roma che poi da vero deriva veridità virus virus vis forza forza e Giorgia Meloni è l'uomo tuo non ce l'ha avuto lo sperma adeguato per farti fare un vero un bambinetto tu hai fatto una bambinetta è scritto qua cari amici cari io non dico cose menzognere il divino Terma guardate leggete leggete fermo immagine caro divino Terma io mi scuso mago mago Terma io mi scuso caro io non so chi sei mi scuso tanto con te e con tutti coloro che mi ascoltano ma tu prima di fare le previsioni consulta Serafino Massoni e soprattutto d'ora in poi non fare più previsioni senza aver letto questa mia opera divino Terma non fare più previsioni senza aver letto questa mia opera e anche questa è in lingua inglese ma la trovi pure in lingua italiana e poi divino Terma io ti invito a questa mia Lectio Magistralis mercoledì 11 gennaio 2017 passaggio dal matriarcato al patriarcato a Firenze divino Telma a Firenze guarda via Bettino Ricaso il numero 7 Fiorenza ingresso gratuito meglio fare una prenotazione gratuita perché ci sarte non è capito mago tu vieni ad ascoltare la mia Lectio Magistralis e le previsioni non le sbaglierai più capito 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 aveva previsto che Maria Elena Boschi avrebbe fatto un bambino un maschio e vabbè ma per fare un bambino ci vuole lo sperma e non è che Maria Elena Boschi il bambino lo può fare da sé c'è bisogno di lo sperma e c'è bisogno di un uomo c'è bisogno e se Maria Elena Boschi l'uomo non ce l'ha ma per Maria Elena Boschi ci so sempre io a disposizione Serafino Massoni capito Maria Elena Boschi se vuoi un bambino maschio rivolgiti a me cara rivolgiti a me e io ti faccio fare un bambino maschio capito a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni che c'è bisogno